Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video con la so che adorate come me questi video perché come me siete delle amanti dello shopping se raga è vero, vi avevo detto che io non avrei più acquistato nessun capo di abbigliamento ma la colpa di questo shopping non è mia ma è di mia sorella cioè raga io non volevo farmi tentare, viene lei subesca tantissimi saldi e io tipo, no infatti ho cercato tipo di non calcolarla però alla fine raga mi ha mostrato delle cose però sai, secondo me questa maglietta addosso a te ti sta una bomba perché fai non te le compri? è uno, è due, è tre e raga ho fatto un altro mega shopping sul Versica però prima di soffermarci e farvi vedere tutti i capo indossati volevo approfittarvi in questo video per parlarvi visto che comunque siamo sempre comunque in tema moda sono stata contattata settimana scorsa da un brand Zinfo praticamente Zinfo ha un sito che ha tantissime tantissime montature diverse sia da vista che ovviamente anche da sole poi dopo ve ne parlerò quindi raga veramente io sapete che faccio sempre una cernita per quanto riguarda le collaborazioni ma ho visto il loro sito però veramente sono stati super super gentili e quindi mi sono sentita di accettare la loro collaborazione e sono stata molto molto onorata volevo anche dirvi che io non ci guadagno assolutissimamente niente dai vostri ordini ho ricevuto solo i due occhiali in omaggio io, cioè veramente, sono super felice perché appena le ho aperte sono rimasta wow, wow, wow prima di iniziare volevo dirvi anche che avete un mio codice sconto Giulia tutto in maiuscolo che praticamente vi permette di avere un 50% sulle montature e un 20% sulle lenti prima di tutto vi consiglio di farlo dal computer non dal telefonino perché almeno dal computer vi fa anche la traduzione in italiano e poi di cambiare la valuta in euro e praticamente raga ha dei prezzi base veramente fantastici adesso non so so per giù quanto può costare una montatura perché li ho ricevuti gratis però vi posso dire che hanno dei modelli bellissimi infatti io mi sono presa tipo una giornata per decidere perché io ero troppo troppo indecisa poi insieme a mia sorella abbiamo deciso poi ci sono anche i filtri che voi potete selezionare la vostra taglia sml per quanto riguarda gli occhiali e in base a quel filtro vi riporta nei vari occhiali vi fa vedere disponibili in quella misura quindi è semplice raga prendere le misure degli occhiali vi spiega tutto ovviamente potete sia scegliere occhiali non graduati ma anche occhiali graduati basta che prendete la vostra prescrizione oculistica inserite tutti i dati e potete creare i vostri occhiali scegliete la montatura e poi per i vetri eccetera fate tutto dal computer devo dire che il pacco io ho concluso l'ordine venerdì mattina martedì a mattina sono anche arrivati quindi fantastico super super veloci mi sono sbilanciata molto sapete che io adoro questa montatura così però raga andiamo ve le faccio vedere dopo ve le farò vedere anche nel dettaglio non vedo l'ora di scattarmi tantissime foto nuove foto nuove con gli occhiali nuovi ho preso anche degli occhiali ovviamente da sole non ho mai avuto degli occhiali da sole graduati quindi mi ho approfittato subito iniziamo vi faccio vedere tutto l'ordine vi arriva con la busta del corriere un'ulteriore busta e poi confezionate così così sembra semplice ma vi faccio vedere una cosa qui c'è il logo eccolo qua ovviamente giù nell'info box trovate tutto si apre la scatolina ovviamente questa potete buttarla e si sfila la bellezza io lo sapete come ne ho pensate queste scatoline tipo per chi ha non lo so come si usa fare tipo una capilla armadio con tipo dove si mettono i gioielli tutto trasparente ecco appoggiarla tipo così ognuno così cioè secondo me è qualcosa di meraviglioso all'interno trovate la garanzia anche come pulire gli occhiali tutta la spiegazione quindi bella sta cosa mi piace e qui ci sono gli occhiali io ho preso entrambi taglia L perché comunque ho preso le misure e andava per me andava bene la L quindi fate attenzione veramente vi chiedo spegneteci anche 10 minuti in più ma fate una cosa proprio precisa io devo dire che le ho anche misurate anche per vedere la gradazione e raga fantastica sono è proprio la mia la cicatella ovviamente arriva io la chiamo pezzuola raga non so come si dice però io l'ho sempre chiamata la pezzuola raga cioè ma ne vogliamo parlare? parliamone la montatura si chiama Electra perché poi per tutte le montature hanno dei nomi diversi in base anche al colore e questa qui è colorazione gold io di solito cioè raga devo dire che dal sito me l'aspettavo abbastanza sottile infatti avevo un po' paura infatti ero indecisa tra questa e un'altra montatura solo che l'altra non c'era la L mi ho detto vabbè e destino giù prenditi questa che sicuramente vi starà bene poi me lo direte anche voi e all'inizio ho detto vado questa secondo me non lo so la vedevo abbastanza delicata ma proprio come materiale cioè raga da qua invece quando mi è arrivata ho detto assolutamente no proprio bella e devo dire che è molto leggera non vi pesa perché di solito ci sono alcune montature che sono pesanti questa no cioè raga ma quanto può essere bella poi ve la faccio vedere nel dettaglio qui anche la protezione così non vi fate male è questa per chi porta gli occhiali top eccola qua poi ve le faccio vedere nel dettaglio cioè raga è meravigliosa l'ho sempre desiderato infatti mia sorella ha fatto aspettiamo che ci arrivi e poi sicuramente farà anche lei un ordine perché lei è una patita per quanto riguarda gli occhiali da sole ok che dite misuriamo mamma mia raga che dite come sto come mi vedete fatemi sapere oddio io vedo un po' strano mi devo abituare alla nuova montatura che dite vi gusto cioè raga è bellissima ok possiamo andare avanti bella raga veramente super super bella infatti mi sono innamorata poi andando avanti mi ritorno ai miei occhiali eccoci qua poi mi devo anche abituare perché qui io non so le vedo completamente diversi poi sono la lente comunque un po' più grande quindi mi ci devo proprio completamente abituare però fatemi sapere comunque io vi consiglio di andare di andarci a dare uno suguardo io non so super giù quanto è potuta costare questa montatura graduata però comunque vedendo comunque i prezzi da come partivano ovviamente il modello base gradazione eccetera non hanno dei prezzi assurdi quindi poi avete anche il codice sconto quindi se vi può interessare andateci a dare un occhio poi raga basta che vi prendete le misure non potete sbagliare ok andiamo all'ultima altrimenti raga mi dirungo tantissimo ma veramente io sono rimasta molto soddisfatta e quindi perché non elogiare questa azienda andando avanti si chiama Afrodite eccola qui raga sempre il solito discorso dai ragazzi questa cosa mi piace tantissimo ovviamente sempre garanzia con tutto ed eccola qui raga adesso che ho doppia pezzuola che io sono contenta perché io le perdo sempre fatemi sapere se anche voi ma io le perdo in continuazione cioè raga sono bellissime eccole qua cioè raga belle 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 ovviamente anche queste sono graduate che sono la colorazione marrone scuro con questa trama un po' tartarugata con il giallo eccola qua qui sempre in oro ma è proprio bella poi dopo ve le faccio vedere nel dettaglio bella eccola qui ovviamente misuriamo non mi sono mai fatta vedere con un paio di occhiali da sole infatti mangi immagini hai visto quindi ah no raga ma poi è bello di indossare degli occhiali da sole e vederci perché di solito non ci vedevo niente che ridite che sta qui bella no raga sono veramente belle belle queste non lo so pure da fare ti ne so un regalo a qualcuno comunque io mentre stavo riordinando raga non me ne sono completamente accorta che nello scatolino c'era anche questo c'è la confezione sopra no vabbè adoro che bello secondo me è fantastica questa cosa ok io direi di passare ai danni che ho fatto per colpa di mia sorella che sta lì furbetta cioè raga io non dovevo però veramente ripeto bershka cioè bershka proprio ti chiamava calamita cioè è proprio assurdo vado a prendere i panni in tutto ciò qualcuno è rovescio ma sicuramente voi già lo sapete arriviamo a bershka il mio amore più grande bershka per quanto riguarda l'abbigliamento raga amore mio allora vi faccio vedere cosa ho preso bellissima cioè comunque abbiamo risparmato tantissimo io e mia sorella veramente tanto 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 questa camicia con questa trama un po' trama da come si è scritto sul sito stampa bandana infatti sì un po' ci somiglia comunque a un tessuto super super fresco cioè questa è bella sia portata comunque aperta con sotto tipo non so un toppino o una maglia un po' fluo che dopo vi farò vedere oppure anche chiusa però questa qui c'è la particolarità che si può fare il fiocco però io dopo indossato vi faccio vedere tutto eccola qua nera con i dettagli in bianco eccola qui bella veramente bella e fatta bene questa qui taglia S costava 19 euro e 99 pagata 5 euro e 99 5 euro e 99 camera che mi suggerisce ragazzi oggi mi sento proprio famosa ok prego prego con questa sotto anche con questa qui ci dice sempre il camera questa è bella questa abbastanza doppio come tessuto però abbastanza leggero ha costine eccola qui mi piace questa cosa che c'ha la doppia foto era così non si vede niente eccolo semplice body senza le ciappette mamma mia raga odio queste cose però alla fine si possono pur sempre mettere comunque poi ve la faccio sempre indossato quindi non mi soffermo più di tanto taglia M costava 12 euro e 99 e l'abbiamo pagato 2 euro e 99 quindi fantastico fantastico ma il bello è che mia sorella abbiamo quasi la stessa taglia quindi abbiamo fatto proprio uno shopping tutto insieme che poi alla fine ci scambiamo è vero che lei va un po' più larga a me andrà più aderente però alla fine ci va sempre bene andiamo avanti con ovviamente ragazzi una maglia rovescio eccola eccola qui questa maglietta che mia sorella mi sta maledicendo completamente perché lei voleva una maglietta con le rose e io ho detto no ma che la prendi a fa e lei sta tipo comunque eccola qui io mi trovo benissimo con le magliette a mezze maniche sia in inverno che l'estate le utilizzo veramente tanto ultimamente anche per allenarmi c'è scritto bonjour che sta scritto dangerous sta scritto dangerous eccola qui raga semplice t-shirt però ve la faccio vedere indossata perché a volte raga queste t-shirt vi salvano la vita comunque questa qui già non costava molto taglia S se 4,99 l'abbiamo pagata 1,99 se 4,99 l'abbiamo pagata 1,99 quindi bella tu pezzo preferito volete sapere mia sorella con cosa mi ha ingannato prego aspettate che è il rovescio però raga questa è bella questa si no non posso se la trovo in negozio anche invece sto parlando di questa maglietta così è troppo sparaflesciata comunque è una semplice canotta color lilla proprio lilla chiara con questa scritta che non si capisce penso che sia cinese sicuramente penso di sì verde fluo comunque raga è bellissima ha anche il cappuccio cioè pensate questa su un pantaloncino largo oppure su un jeans a vita alta belle spalle un bello bici per la sverdrici beh allora questa qui la bellezza infatti ho detto speriamo che non si vede troppo perché a volte fanno queste canotte proprio che si vede tutto in regione a me non piace però di solito troppo sotto va bene però la particolarità che ha è che qui ha una fascia e quindi non si vede poi ve la faccio vedere indossata quindi bella 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 questa qui costava c'era anche beige ah non c'è scritto il prezzo vabbè comunque taglia M l'abbiamo pagata 7 euro e 99 pensa alla fine il prezzo pieno 15 euro 12 euro la pie super giustice 12 e 99 ok un aneddoto di maglietta questa qui però è bellissima raga c'è questa fa delle spalle belle 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 allora abbiamo preso due colori dall'inizio pensavamo che fosse tipo così perché non si vedeva perché ovviamente aveva messo tutto nel carrello senza leggere una scippa come l'altra volta invece di una maglia un pantaloncino ma lasciamo stare comunque sto parlando di questa magliettina qui abbiamo preso entrambe taglia M eccola qui diciamo un po' costine poco però hanno questi materiali proprio belli quest'anno sembrano proprio quei materiali di quei capi sportivi ma proprio bella aderenti a maniche lunghe ma la particolarità è questa qua cioè raga dietro è completamente tutta scoperta però è veramente veramente bella abbiamo preso a bianca ma ovviamente anche rossa al rovescio però dopo ve la faccio vedere indossata comunque sono uguali anche dietro così cioè pensate questa blu elettrico mamma mia prezzo taglia M prezzo 15 euro e 99 l'abbiamo pagata 5,99 bella 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 sono bellissime raga questa pure tipo la rossa su un pantalone bianco bellissima che comprerò che comprerò comunque cioè raga ho comprato un piumino sì alla fine un piumino mi serviva perché li ho distrutti completamente gli altri non mi entravano mi andavano troppo stretti di spalle non mi passava più la circolazione e quindi li ho ceduti a mia sorella molto molto felice di questa cosa e quindi ho dovuto comprare un uovo piumino e non vedo l'ora di metterlo perché ultimamente sto mettendo quello di mia sorella allora si è ovviamente sempre bershka molto semplice semplice raga nero eccolo qua tagliere mi sta bene 19 euro e 99 prezzava e io l'ho pagato 11 euro e 99 comunque bello 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 poi conviene servono sempre questi giubbini mi servivano veramente quindi ho detto no lo devo prendere perché mi serve prego ma mi piace questa cosa ho preso un'altra maglietta io sono sempre stata comunque in fissa con questi tipo con queste magliette così all'inizio quando mi è arrivato ho detto sta cosa non mi entrerà mai poi raga quando l'ho misurato ho detto oh mio addio come si bella infatti eccola abbastanza rosa shock se ci fosse se ci fosse azzurrino ma c'era no peccato comunque eccola qui cioè raga sembra piccolissima ma poi è un tessuto che sembra che non cede sia adatta al corpo eccola qui bella raga sembra tipo che le squadre basket non lo so perché perché sono Brooklyn merca fa sensi maglietta così eccola qua questa qui taglia M 12,99 fattibile l'ho pagata 3,99 cioè raga meglio ok andiamo avanti adesso passiamo al fluo 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 manca a farlo apposta ecco all'asta un'altra maglietta eccola qui color verde lime eravamo molto indecise tra questo colore e il lilla però alla fine ho fatto i bigliettini e ha vinto lui eccola qua no raga read for success come si dice drinki for success read for success va bene che stasci ma fa come in italiano? pronta per il successo comunque pronta per il successo sull'eccesso eccola verde live semplice top c'è ragazzi 1,99 euro questo comunque costava 5,99 euro taglia S mi raccomando se dovete comprare queste cose compratele nei saldi che a meno vi fate la scorta con 6 euro eccolo qua andando avanti però qualcosa di puffo c'è 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 eccola qua questo tessuto è bello c'è proprio bello questo tessuto morbido è una semplice canotta con il collo alto vedete questa è un po' più scollata però alla fine non si vede il reggisino né niente questo è il pantalone a zampa mamma mia bella comunque un bel color puffo semplice top raga a giro pagata 2,99 euro taglia M costava 7 euro e 99 mia sorella io spero che questo video vi sia piaciuto e avrete visto anche le clip io adesso vado a registrare per quanto riguarda il sito per quanto riguarda il sito degli occhiali e vi faccio vedere anche i capi indossati e cazzo succede io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao